Siamo al giro di body questa Champions League e da oggi ogni partita è importante come una finale. Non contano più i punti ma solo passare il tutto per avvicinarsi al grande solo. Luca secondo te chi può fare la differenza oggi? L'imprevedibile Riccardo Quaresma Fabio veramente sta vivendo una seconda giovinezza. Un calciatore che cerca spesso la giocata d'effetto supportato da un grande bagaglio tecnico. Se in forma è un autentico portente. Cercherà sicuramente di far comparire il suo nome sul tabellino dei marcatori oggi. Pogba! Bel gesto tecnico. Può crossare. Arriva il cross di Pogba. Se la cava la difesa allontana la palla. La mette in avanti. E trova il compagno. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. La Juventus non ha mai trovato neanche la via per arrivare alla rete fino a questo momento. Ecco Teres. Cristian Teglio. Martin Simbi. Prova il filtrante. Martin Simbi. Cerca il pallone filtrante ma c'è il recupero della difesa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Palla in profondità sulla fascia. Posizione regolare. Starke. Con il traversone. Ci mette una pezza. Evita l'intervento dell'avversario. Marco Verratti. Vic Steiner. Stiamo ancora aspettando il gol che sbloccherebbe questa partita. Cerca spazio. Prova la giocata nello spazio. Tocco preciso. Starke. E pronto sarà lui a battere il calcio d'angolo. Tevez. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe. Un'autentica parata di istinto questa. Con questa serie così lunga di... E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. 0-0 alla fine della prima frazione. Speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol. E che così il risultato si sblocchi. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente attente e concentrate. Ma nel secondo tempo comincerà ad affiorare la... Fallo. Calcio di punizione. Calcio di punizione. Calcio di punizione. Siamo in posizione defilata. Maikon spazza via prontamente. Decide di sfruttare la fascia. Kiksteiner. Elegante. La mette al centro. E il cross è controllato dalla difesa. Nel caso ve ne siete andati per un po', sappiate che non vi siete persi nulla. Siamo sempre 0-0. Ottimo disimpegno. Lo spazza via. Evra. Casemiro. 0-0. Non manca il tempo però per sbloccare il risultato. Bel pallone. E trova bene il compagno. Casemiro. Vuole la profondità. Cerca lo spunto. Prova la giocata nello spazio. Prova il filtrante. Palla allontanata senza troppi complimenti. Marchisio. L'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Ancora un calcio piazzato. Grande occasione. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. E c'è un altro corner a loro disposizione. Cercherà di metterlo in mezzo. La palla viene respinta. La gioca lunga. Vuole la profondità. Riceve in zona pericolosa. Attenzione. Buona. In gioco. Può andare. Molto buono il dribbling. Tiro rivedibile. Che peccato. Si era mosso bene per trovare la posizione da cui tirare. Ma non è riuscito a buttarla dentro. Devono cercare di portarsi avanti adesso però. Non resta più molto tempo per cercare di segnare. Cerca il pazio. L'appoggio sulla fascia. Può essere la loro ultima azione d'attacco. Marchisio. Ottimo dribbling. Deve buttarla dentro. Marchisio con il cross. Jackson Martinez. Finisce così. Non c'è più tempo. Match d'andata che si chiude con un pareggio. E' un risultato che premia soprattutto la squadra ospite. Che adesso avrà la possibilità di giocarsela davanti ai propri tifosi. E' stata una partita combattuta. Le due squadre avevano... Che me fa pensare? Che si. Che. Che. Che.